buona giornata amici da massimo foghetti oggi è sabato 29 gennaio 2022 iniziamo subito la nostra rassegna stampa il nostro appuntamento quotidiano a partire dal calendario ecclesiastico vediamo chi si festeggia oggi oggi si festeggia San Costanzo di Perugia ma chi era San Costanzo vediamo un attimo quello che dice appunto il calendario San Costanzo visse nel secondo secolo a 30 anni era già vescovo mentre era in atto la persecuzione di Marco Aurelio ovviamente abbandonando la fede pagana fu denunciato come cristiano e fu invitato a sacrificare all'imperatore ma Costanzo non ne volle sapere allora fu torturato a lungo perché appunto compisse questo gesto fu rinchiuso in un calendario bollente allora si usavano le terme lo sapete fu costretto a camminare sui carboni ardenti e infine fu decapitato ebbe la gioia però di ottenere la conversione dei suoi guardiani tanto il suo esempio fu edificante questo è il santo del giorno San Costanzo di Perugia diamo ora un'occhiata alle previsioni del tempo oggi siamo il 29 di gennaio iniziano i giorni della merla quindi sono i giorni più freddi dell'anno ma perché si chiamano giorni della merla forse voi lo sapete meglio di me comunque la leggenda narra che i merli una volta erano tutti bianchi ebbene in questi giorni molto molto freddi una merla con i suoi pulcini si ricoverò dentro un camino per riscaldarsi e da allora ne uscì tutta nera tutta sporca di fuligine e da allora tutti i merli furono neri questo appunto narra la tradizione comunque il tempo si mantiene solleggiato anche se noi il sole non lo vediamo per via della nebbia vediamo che la temperatura è stabile il tempo asciutto con cielo poco nuvoloso per velature le temperature massime arriveranno ai 10 11 gradi ma che stamattina era molto freddo tant'è che se dovete uscire con la macchina ricordatevi dovete pulire i vetri perché sono sporchi dalla brina comunque le temperature sono ancora piuttosto rigide soprattutto per l'escursione termina che va da 1 ai 9 10 11 gradi ci ho detto passiamo alle notizie che evidenziano oggi i giornali a partire dal corriere adriatico il corriere adriatico accentua la sua attenzione sull'esito dell'ultima seduta del consiglio comunale la prima dell'anno la prima che si è svolta nel 2022 si parla soprattutto di una mozione che è stata presentata dalla listazione più europa intitolato ama la scuola sembra che è verta tutta sulla scuola sugli edifici scolastici ma in realtà non è così è una mozione che promuove interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed incremento dell'efficienza energetica del pnrr che favorisce invece la realizzazione e messa in sicurezza di asili nido scuole per l'infanzia costruzioni di scuole innovative incremento di mense e palestre e in generale l'efficientamento di tutti gli edifici una mozione che è stata modificata su indicazione di perini del partito democratico la mozione era firmata da cora fattori e da marchigiani che sono gli esponenti appunto di azione più europa dicevo di perini del pd che ha voluto inserire un riferimento proprio alle barriere architettoniche ma il titolo fa suggerisce qualcos'altro rispetto al contenuto di questa mozione infatti il titolo suggerisce che questa mozione che questa votazione e ha costituito una prova generale per l'aset infatti l'efficientamento delle scuole sull'efficientamento della scuole si è astenuta la maggioranza anomala del digestore insomma una prova di forza una prova di ricomposizione di quello che potrebbe essere il consiglio comunale e poi vediamo come l'assessore brunori evidenzi mezzo milione per i nuovi lavori al parco urbano insieme all'assessore mascarin gara dei lotti secondo e terzo una petizione per intitolare la strada interna a Ilaria Alpi se tutto filerà riscio liscio le ruspe in azione entreranno a metà marzo per realizzare questi due lotti del parco urbano dell'aeroporto infatti a portare a termine lavori sarà la ditta gnb infrastrutture un'azienda del viterbese che ha vinto la gara la gara d'asta per un appalto di 497 mila euro forte di un ribasso del 23,6 per cento e dopo quella piccola quella piccola isola giochi che è stata realizzata all'aeroporto si continua appunto a realizzare il parco estendendo l'intervento verso il quartiere del vallato dove ci saranno strutture sportive camminamenti piste ciclabili e via dicendo sgonfiano aset così era paga meno le fusioni a freddo sono sconsigliabili e si interviene ancora su questo fantomatico documento che alcuni dicono che non c'è altri dicono che non c'è ma in realtà è venuto fuori e così si scoprono gli altarini all'interno dei rapporti tra marche multiservizi e aset le fusioni a freddo sono sconsigliabili lo dice il vicepresidente di aset il commercialista vincenzo galasso lo studio sulle operazioni delle settembre 2019 di cui ha dato notizia ieri il corriere adriatico del gruppo era arrivato informalmente all'amministrazione comunale non è stato mai messo agli atti rimanendo sconosciuto nei suoi contenuti fino a pochi giorni fa ebbene un documento che vediamo è molto articolato poi ne riparleremo quando vedremo le notizie sul resto del carlino si parla di diversi argomenti e si prefigurano già diversi interventi dunque non era un documento così tanto per fare qualcosa ma un documento che entrava proprio nei particolari di questa fusione che comunque ancora non c'è stata è tutto fermo dal lockdown i disabili possono attendere si parla ancora qui delle delle dibattito che c'è stato in consiglio comunale per quanto riguarda il peba ovvero il piano delle barriere architettoniche barriere da abbattere l'assessore tonelli si giustifica dicendo che la pandemia ha un po così e ha rallentato i lavori ha messo un po da parte questo progetto che doveva invece andare avanti panaroni e replica siamo a zero panaroni del movimento 5 stelle quindi invita la giunta a procedere su questo piano che difende soprattutto le stanze dei disabili e quindi dei cittadini più deboli cassa integrazione dimezzata si è tornati indietro di sette anni incoraggianti i dati del 2021 per il sindacato che chiede l'innovazione del pnrr cassa integrazione in provincia più che dimezzata nel 2021 ma la normalità non abita ancora qui e i livelli pre crisi restano lontani insomma c'è stato un miglioramento ma ancora non si è raggiunti i livelli del periodo pre crisi scansando il parallelo con un 2020 fragellato dalla pandemia che aveva fatto segnare un picco di 26 milioni e mezzo di ore per trovare un termine di paragone congro ai 12 2 milioni dello scorso anno occorre risalire infatti al 2014 quindi la situazione rimane critica per quanto riguarda la il lavoro insomma l'aspetto lavorativo ed economico del nostro territorio fossombrone la cittadella non è mai stata così curata lo evidenziano dei cittadini i quali sono più propensi di solito a fare delle critiche perché magari lì è brutto lì non va lì ci sono le buche ebbene in questo caso invece si fa l'elogio dell'amministrazione comunale perché la cittadella di fossombrone da cui tra l'altro si vede un panorama bellissimo che si che si espande diciamo dal furlo al affano al mare è stato ben curata gode una venuta stupenda della valle sottostante a parlare così è la signora cinzia benvenuti di fossombrone dunque un elogio all'amministrazione comunale a frontone sui monti catria e nerone si scia ancora in questo weekend impianti aperti oggi e domani e sul carpegna con poca neve solo una ciaspolata una passeggiata insomma mentre invece sul catria e sul nerone si scia quindi coloro che amano appunto questo sport questo divertimento sanno dove recarsi vediamo anche le pagine pesaresi per quanto riguarda il corriere adriatico si parla di vediamo un attimo qui ecco di precarietà abitativa dell'emergenza abitativa un argomento che ha cominciato a salire alla ribalta della cronaca già nei giorni scorsi soprattutto a pesaro precarietà abitativa c'è pure l'algoritmo dell'affitto condiviso la strada per attutire l'emergenza è quella delle agevolazioni fiscali le si concedono ai proprietari di casa che affittano ad un presso scontato ai loro inquilini appunto l'occupazione di un appartamento sostegno ai proprietari e canoni giusti per gli inquilini un accordo è pronto tra l'amministrazione comunale e sindacati l'emergenza abitativa è di nuovo tornata dunque all'attualità lo stop al blocco degli sfratti e l'impossibilità di prorogarlo spingono a cercare metodi alternativi come i tavoli di concertazione con a capo la prefettura che ha coinvolto anche i comuni i sindacati a difesa degli inquilini e le associazioni che proteggono gli interessi dei proprietari dunque si cerca di trovare un accordo per un affitto equo che non spinga poi le persone a cercare altri appartamenti sotto sfratto piccole imprese caro bollette discutiamo il fondo crisi lo afferma l'assessore aguzzi l'assessore regionale aguzzi che non si tira indietro per quanto riguarda un aiuto alle imprese ma avverte la regione fa già molto dunque un fondo anticrisi regionale era stato richiesto anche dall'amministrazione comunale di pesaro per aiutare le imprese a sostenere il caro bollette aguzzi dice non lo escludiamo questo fondo però insomma ricorda soprattutto a francesca franquellucci l'assessore pesarese che aveva fatto questa richiesta che la regione fa già tanto ma proverà a fare ancora di più quello che ha fatto insomma non basta in realtà boom di domande per gli oss si sfiorano le 1100 candidature sono delle figure importanti queste nel servizio sanitario nazionale marche nord si è organizzata per trovare spazi adeguati per ospitare questa grande platea di aspiranti al concorso uno spazio adeguato allo svolgimento degli orali latitano invece le proposte degli infermieri e di alcune specialistiche ospedaliere come quelle del pronto soccorso partecipazione dunque al di sopra delle aspettative a questo concorso tale che gli uffici amministrativi dell'azienda spedaliera marche nord sono stati costretti veramente a un super lavoro per trovare uno spazio adeguato per ospitare questa fase finale del concorso invece c'è un altro lato della medaglia è andato deserto il bando per la medicina d'urgenza al pronto soccorso al presidio san salvatore servono altri infermieri però insomma come i medici insomma è un lavoro è un settore questo che ha carenza di organico di personale né ci sono aspiranti che intendono appunto farvi parte e ancora polemiche per il regolamento del centro storico varato dalla giunta ricci a pesaro sono state escluse diverse diversi settori del commercio sia la piadina no al kebab mossa furba appunto in interrogativo sulle corriere adriatico ci sono non solo dubbi etici sul regolamento per il decoro cittadino articolo 1 contesta le scelte nel merito via i cani dal decumano dice almeno questo invece il kebab può stare i cani no insomma c'è un dibattito veramente articolato in atto per quanto riguarda il decoro del centro storico a pesaro e poi vediamo ancora altre notizie un un lutto addio all'alla signora gentile dei profumi credeva nel bello nelle donne nell'arte apparteneva alla famiglia del ginepro storica famiglia di commercianti pesarese i funerali si celebreranno lunedì pomeriggio nel duomo di pesaro e poi a fondo pagina vediamo un incidente stradale tamponamenti in rotatoria un ferito coinvolti sei mezzi due scontri sono verificati a distanza di pochi minuti nei rondò cop e di villa fastigi a pesaro un ferito comunque non dovrebbe essere grave però insomma anche qui occorre fare molta attenzione a valle foglia contributi statali per le bollette verranno concessi a 255 famiglie che ne hanno fatto richiesta verranno complessivamente corrisposti 115.800 euro solo 5 le domande che sono state rifiutate non accolte perché l'ise che veniva richiesto come limite per fare domande in questo caso era più alto poi vediamo che a pian di mileto sono stati premiati boscarini brugnettini e moretti titolari di industrie che hanno così concorso al mantenimento delle popolazioni dell'entroterra grazie appunto all'economia che queste aziende presentano a durmino così ho accolto il piccolo mustafa imparerà l'italiano per integrarsi ebbene questo è un articolo che riguarda quel piccolo siriano purtroppo che è nato per una questione congenita senza braccia senza gambe insomma poverino è veramente molto menomato giunto in italia per avere poi delle attrezzature ortopediche che gli consenteranno una certa autonomia ebbene in questo caso urbino anzi fermignano diciamo meglio elogia il cardinale lo iudice il quale ha raccontato la storia che ha commosso l'italia e la sua fermignano si mobilita insomma fermignano ha gioito all'ennesimo cup de fudre del suo figlio adottivo paolo augusto lo iudice cardinale di siena nipote del mai dimenticato panettiere fornaio antonio toni angeli l'arcidiotesi e la caritas di siena ha accolto la famiglia del piccolo mustafa nato mutilato e conosciuto in tutto il mondo per le fotografie che di lui ha fatto il turco mehemet aslan insomma veramente una storia edificante ebbene siamo giunti in conclusione per quanto riguarda il corriere adriatico quindi possiamo dare un'occhiata subito al resto del carlino dove vediamo che sulla pagina di fano si parla di questo documento che in realtà non è un documento insomma c'è qualcosa c'è con un accordo un almeno un inizio di discussione che è stato fatto nel 2019 un piano meglio diciamo un piano di fusione che evidenzia diverse cose vediamo che cosa intanto vediamo il titolo fusione aset marche multi servizi ecco il dossier 13 pagine che partono dall'attuale assetto della municipalizzata per arrivare alla possibile governance della nuova società quindi veramente delle scelte precise scelte che nel piano del 2019 stabiliscono che nella new company la nuova società sarebbero entrate le attività di asset che riguardano l'illuminazione pubblica l'igiene ambientale con la raccolta spazzamento la discarica di monte schiantello eccetera il sistema informativo integrato la gestione degli impianti termici le reti di gas e il personale relativo sarebbero rimaste fuori solo le farmacie le soste a pagamento l'illuminazione evotiva e le società controllate collegate come a s per quanto riguarda il gas adria come con l'impianto di generazione del cimitero dell'olivo asset entrate che in liquidazione è prometeo insomma qualcosa di già programmato esisteva solo che questa cosa non era mai salita al ribalta comunque un articolo interessante da leggere ciclabile e lavori la mentele via 4 novembre residenti e commercianti a fano studenti convivono con il cantiere da qualche mese si sono stancati l'assessore dice gli interventi stanno per essere conclusi e l'assessore tonelli che evidenzia come la nuova pista ciclabile di collegamento tra via alle gramsci via 4 novembre passando per via negussanti è ormai arrivata al termine dei lavori è stata completata la coordonatura e la protezione della pista così ha detto fabiola tonelli green pass a campione negozianti sollevati una presa di posizione della presidente della confcommercio barbara marcolini che precisa come i commercianti fanesi che avevano sollevato dubbi e preoccupazioni per l'immenente nuova stretta sull'accesso libero ai negozi afferma che i controlli possono essere fatti a campione non è detto che devono essere fatti meticolosamente ad ogni cliente che entra nel proprio negozio quindi un in una incombenza che solleva di più l'impegno appunto dei commercianti a mondavio via le barriere architettoniche sarà installato a breve un monte a scale nel municipio per consentire anche ai disabili e l'accesso agli uffici e alla sala del consiglio comunale a san costanzo invece verranno erogati sostegni alle famiglie con disabili l'assessore ai servizi sociali bilina volpe dice le domande vanno presentate entro il 25 di febbraio a urbino il consiglio dice sia la demolizione del baldi del liceo baldi la proposta che è già stata condivisa con la provincia riprende una demolizione presente nel piano regolatore che già vigente ed una sua riedificazione accanto al liceo laurana in zona varea insomma ad urbino un edificio da abbattere da ricostruire da un'altra parte e poi c'è il cordoglio per la morte di curina di curina che era roberto curina il responsabile del centro di formazione professionale di urbino i suoi funerali si sono svolti l'altro ieri nella chiesa di tavernelle accolli al metauro e poi abbiamo un così un una speranza c'è tutta una comunità quella di penabilli che si mobilita a sostegno della elezione a capo dello stato di elisabetta belloni insomma che dovrebbe arrivare al quirinale potrebbe essere una delle candidate sappiamo come dopo gli ultimi colloqui di ieri sembra che una donna sia in pole position per essere e non si sa ancora chi è comunque sempre in pole position farete per essere eletta al presidente della repubblica italiana ebbene elisabetta belloni è una signora che frequentava frequenta pennabilli e conosce molte persone quindi queste persone non stanno nella pelle per sostenere la sua candidatura e qui vediamo anche come il montefeltro premi gli imprenditori il sindaco di pian di meletto belforte alisauro e lunano i tre sindaci ringraziano le aziende che hanno dato vita al territorio e hanno premiato e hanno premiato alvaro boscarini di system group severino brugnetti di epta group gisfredo moretti di moretti compact fondatori titolari di aziende che ad oggi danno lavoro a circa 1200 persone e la forte presenza di alcune industrie ha cambiato veramente il destino dell'entroterra vediamo sulla pagina di pesaro per 16 mila studenti delle elementari in farmacia da oggi il tampone è gratis basta la ricetta del medico la semplice ricetta del medico del pediatra per avere il test senza pagare per questi ragazzi golinelli di fedelfarma finalmente considerati anche i più piccoli afferma qui abbiamo una disfunzione a fondo pagina del resto del carlino io sono guarito dice manuele morelli un barista di 25 anni ma il mio superpass dov'è ancora non gli è stato consegnato il 2 febbraio gli scade la seconda dose fatta a luglio e non ha ancora ricevuto il nuovo super green pass della guarigione valido sei mesi un disservizio che rischia però di penalizzarlo sul lavoro e nella vita quotidiana quindi una cosa da rimediare nel più breve tempo possibile non controllava i pass per ragione di privacy un ristoratore è stato multato insieme a dieci clienti chi è questo ristoratore e cristian marinelli il titolare del ristorante la quercia di difano aveva messo un cartello alla porta con cui annunciava che non voleva verificare i certificati per la questione della privacy ebbene però è intervenuto il commissariato intervenuta anche la guardia di finanza e ha multato lui con una doppia multa da 400 euro e anche ha multato dieci suoi clienti che appunto erano in difetto per quanto riguarda l'osservanza della normativa in vigore pensionati e lotta dura con il caro bollette ebbene purtroppo per risparmiare il gas c'è chi va a letto alle 5 del pomeriggio la cgl fa un quadro drammatico della situazione sono sempre di più le persone che non arrivano alla fine del mese e poi la stangata non è ancora arrivata a tutti la stangata quella vera arriverà con la bolletta del riscaldamento di marzo e aprile e molti tremano di fronte alle cifre che verranno notificate loredana longin dice gli aumenti sul conto di circa 500 euro all'anno loredana longin segretaria generale della spi cgl e stanno costringendo all'isolamento forzato queste misure così tanti tengono i riscaldamenti spenti la feder consumatori rincari e pronostica rincari per tutto il 2022 insomma ancora giorni di crisi per quanto riguarda l'economia comprensoriale è così consoliamoci con il volto sorridente di valentino rossi valentino si prende il teatro rossini tutto per sé il teatro è prenotato per 80 persone ma non fate caccia al biglietto perché queste persone saranno soltanto ammesse per invito diretto appunto di valentino probabilmente il doctor in questa occasione annuncerà ad una platea scelta i suoi programmi del 2022 sembra che l'evento sia previsto per il 24 o 25 febbraio prossimo mentre non c'è più speranza di vedere i maleskin alla vitifrigo arena insomma perché il tour nazionale e internazionale di questo complesso molto atteso è stato annullato biancani l'acqua è poca servono in vasi il consigliere regionale del partito democratico sollecita le forze politiche a decidere come garantire l'approvvigionamento futuro della provincia insomma adesso di acqua ce ne ha in abbondanza ma d'estate spesso arrivano periodi lunghi di siccità vediamo ora le pagine dello sport siamo nel weekend si preannunciano le partite voglio vedere la vera visse con la pistoiese lo dice mister banchini contro il teramo non c'era in campo la mia squadra colpa mia che non ho alzato l'attenzione domani andrà diversamente domani alle ore 14 e 30 i biancorossi avranno davanti una pistoiese obbligata a fare punti quindi dovranno veramente sfatare il pronostico fano manè ha recuperato herrera pronto al debutto buone notizie per catalano in vista della trasferta si riprende il campionato anche per l'alma di domani contro la vastese carcalis è disponibile a partire titolare il tecnico porta in abruzzo tutta la sua rosa vediamo anche il basket vl oggi il via libera al match con il treviso ancora non è stato deciso la formazione veneta ieri non ancora non aveva ancora recuperato i malati di covid quindi si saprà solo oggi se la partita si farà o meno ebbene qui noi ci fermiamo vi do appuntamento a lunedì prossimo alle ore 7 mentre stasera a occhio la notizia condotto da simona zonghetti buon weekend e buona giornata a risentirci